musica 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 Signori, buonasera grazie per essere qui presenti a questo quinto torneo di calcio a 5, vega nord al piede Siamo giù nella fine edizione, tutti gli anni più o meno, ripeto la stessa cosa, torneo in alto del 2011, con l'ispezione di quattro squadre, via via il torneo del quarto recetto, le squadre partecipanti sono passate a sei, poi a otto, anche quest'anno le squadre sono otto, le squadre dei giovani, con la unità di quest'anno, e il torneo over 50, infatti, oltre alla nostra squadra di giovani, ci saranno anche tre squadre di giocatore over 50, con l'eccezione di un giocatore, una squadra sotto vuoto, sotto vuoto vuol dire che deve avere in età di 45 anni in più, quindi squadre formate da una cittadina, con l'unica eccezione di un più giovane, e da 45 anni in più. Io devo fare dei ringraziamenti, dei doverosi ringraziamenti, innanzitutto, a disposizione, con il loro contributo, tramettono la realizzazione, e questo torneo, ve li vediamo brevemente, punto, porta, emozionamenti, in pibiliano, meta, mano, integrali, piatristici, con l'anno, piani, agenzia dei servizi, Biella, Piazza, Piazza, Ferro, Francesco Paolo, amicerie su misura, servizi satoriali, Biela, Piazza, Plenair, tutto per il tempo libero, tutto per il campo, campeggio, ombro, strette, di Bieliano, Piazza, Piedineria, Piazza, Vincossato, Gapasalud, Vandero, Ida, idraulica, riscaldamento, privatizzazione, di Bieliano, carrozzeria Campagnolo, Viena, stradatta aperto, costruzione civili, industriali, di Bieliano, inglese, Milano, Alci, Escheresse, di Alci, Piazza, Biscondificio Ceno, Piazza, Fattro, 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 Anamorità, Radigiani, Montenaro, Mar, Ristorante, Cabinetto, Santuario, Dolma, e Alfatti, Pighete, Carpetteria, Inferro, di Cerione. Questi sono disposti, e con il contenuto, come ho già detto, ci permettono di realizzare questo problema. Un altro ringraziamento, che ho fatto al Cine Operatore, che in questo momento ci sta riprendendo, andiamo da così, vi ringraziamo, è presente già da qualche anno con noi, il quale riprende, non tu, non tu, ma tu, ma tu, queste partite li potrete poi vedere sul sito www.piazzo.tv, quindi è un bel servizio che gratifica, che fa di piacere potersi ammettere in questo momento. vediamo subito, la presentazione delle squadre, come dicevo, sono otto, su di misi, su Gironi, Gironi, composto da Chiavazza, Valle Bosso, Antecolo, Ponderano, Gironi, Viena, Lo Santo, Pignano, Aneo. Oltre, l'anticipato Gironi, Torneo, Ponte Hyper, in一次 squadre, tre squadre, che risponderanno un minimo, il torneo finale, e le tre squadre del loro, il Pieto, il Teglianico, ed il Teglianini. Vedete, direi che può essere tutto pronto per iniziare la partita di questa sera. vedremo di fronte le prime due squadre, Piti e Maglio Rossa, a rappresentanza di Valle Rosso, con quella di poterà. Quindi tutti i due volte, vi ringrazio, speriamo che ci sia uno stefano per tutti, buon potere, buon divertimento, grazie e grazie. 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 Przestano... ...aproponam do panie Roszątogelanu i żądarze panu Rokowiakoszko-Rodziego-Rodziego-Rodziego. Panu Rokowiakoszko-Rodziego. Panu Rokowiakoszko-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodziego-Rodzie Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.